Siamo in via Port Santa Maria Angolo, via Santissima Apostoli, nei pressi del Ponte Vecchio, dove nella notte fra sabato e domenica è avvenuto un furto a dir poco rocambolesco. I ladri, si presume tre, sono entrati dalla rete fognaria qui all'interno della gioielleria Golden Florence, rubando tutto ciò che era a portata di mano per un valore di circa 500.000 euro. La cassaforta alla parete non è stata toccata, forse i ladri non hanno avuto il tempo materiale per poi fuggire. Non si sa ancora qual è stato l'accesso, da dove sono entrati, i vigili del fuoco hanno fatto dei sondaggi e più ampi dettagli ve li daremo nel corso della serata, dove avremo maggiori dettagli anche da parte della scientifica. Per il momento è tutto, anche se qui i gioielleri e i negozi qui intorno sono preoccupati per questa nuova via di accesso che i ladri hanno trovato. Siete proprio qui di fronte alla gioielleria che è derubata, siete un po' preoccupati con gli furti che aumentano in quest'ultima settimana? Quello senz'altro, non è una cosa piacevole da sapere anche perché appunto siamo colleghi, quindi è chiaro che la cosa ci preoccupa molto. Non è una rete fognaria che a quanto pare si presta a entrare in questi locali? Probabilmente tutto, pensavamo meno che riuscissero a passare dalla rete fognaria, però a quanto pare hanno studiato bene il colpo.